Si è conclusa sabato scorso ad Oristano la prima tornata di incontri sul territorio voluti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali per preparare i lavori del prossimo congresso straordinario convocato in novembre a Roma. Io spero che dal congresso escano delle linee precise sulla gestione degli albi in modo da affugare in breve tempo questo periodo con dei grossi dubbi, soprattutto sull'attività dei liberi professionisti. Noi come collegio abbiamo preso la politica di far partecipare al congresso straordinario dei giovani esterni, in particolare due ragazze, tutti esterni al Consiglio, in modo che sia i nostri iscritti che portino delle idee e che possano essere un contributo per tutta la categoria. Sette incontri da Venezia ad Oristano per capire cosa sarà della categoria nei prossimi anni. Ricordiamo le tre strade che i periti industriali possono percorrere. Formazione triennale post-secondaria, lasciare l'albo aperto ai diplomati oppure accorpamento verticale con gli ingegneri. Io penso che a questo punto non si possa prescindere dalla formazione post-secondaria, perché comunque è quello che ci viene detto dalla comunità europea. Il problema potrebbe essere il fatto che questa formazione post-secondaria dia diritto all'accesso anche all'albo degli ingegneri, ma se riusciamo a essere competitivi con quello che possiamo offrire, con le garanzie e le agevolazioni che possiamo dare, magari potremmo avere un futuro in questo senso. Sono convintissima della scelta di entrare a far parte dell'albo unico con gli ingegneri. Ovviamente non nella sezione A, perché quella è riservata alle lauree magistrali giustamente, ma nella sezione B possiamo giocare le nostre carte assolutamente alla pari con le laureati triennali. Assolutamente l'esperienza di 6, 7, 8 anni di libera professione mi dà questa certezza, perché ho la possibilità di aver constatato cos'è la preparazione del laureato triennale e qual è la nostra dei periti industriali elettrotecnici. Io parlo di diplomi del vecchio corso che si avevano negli anni 96-97. Come futuro per la categoria suppongo non si possa prescindere dalla normativa europea, quindi la formazione post-diploma sarà obbligatoria. Per quanto concerne invece i tre punti trattati, credo che la cosa principale sia mantenere un grado di indipendenza tale che il collegio o albo, come lo vogliamo chiamare, che possa continuare a esistere nella sua forma, dal nazionale al provinciale e soprattutto con un rafforzamento di quella che è la politica previdenziale. Presidente, siamo a Orestano, abbiamo finito le tappe precongressuali, un bilancio. Allora, il bilancio non può che essere senz'altro positivo, perché dopo aver ascoltato tutti i delegati ci siamo sicuramente arricchiti di alcune proposte che spero arrivino in forma scritta, in forma cartacea e che ne alimentino a sua volta altre, perché è importante nella democraticità che abbiamo voluto dare come Consiglio nazionale a questo congresso che tutte le voci parlino, una per tutte, che magari non è mai stata detta a nessuno e forse non è nota, a questo congresso voteranno i delegati, quindi quegli eletti e i presidenti che lo sono di diritto, ma non voteranno i consigliari nazionali. Quindi credo che veramente si stia andando su una strada di democrazia, di pluralità, di rappresentanza. Dopo oggi da dove si riparte verso la roadmap, verso il congresso di novembre? Dopo oggi si riparte da un sopralluogo e faremo il 24, qualcuno di noi farà il 24 al Marriott per definire scenografie e altre questioni e poi dopo un pomeriggio avremo una nuova riunione del comitato organizzatore per mettere a punto il programma definitivo. Però poi ci sarà un'assemblea dei presidenti che, salvo variazione dell'ultimo momento, dovrà essere fatta per il 12 di settembre e poi dopo si riparte a un nuovo giro, perché mi è piaciuto a me e agli altri consiglieri nazionali così tanto, ma non andare in giro, perché quello è stato massacente, entrare in contatto con tutti i periti industriali, perché lo spirito con il quale perlomeno io mi approccio a questa cosa non è quello da primo perito industriale, ma da ultimo vicino a chi soffre.